Dagli ultimi dati ufficiali acquisiti presso la Commissione Unione Europea, aggiornati a dicembre 2017, in Calabria ci sono ancora 21 discariche abusive da bonificare o da chiudere in riferimento alla sentenza C-196-13, sancita dalla Corte di Giustizia Europea a dicembre 2014. Per queste discariche, che costituiscono un grave rischio per la salute umana e l'ambiente, l'Italia, la Calabria e di conseguenza i cittadini, stanno pagando vari milioni di euro di multa, considerato che vengono conteggiati 200.000 euro di sanzioni ogni sei mesi per le discariche non contenenti rifiuti pericolosi e 400.000 euro ogni sei mesi per le discariche con rifiuti pericolosi. L'emergenza di scariche abusive in Calabria continua ad essere preoccupante e inaccettabile, ha commentato l'euro deputato del Movimento 5 Stelle Pedicini. È assurdo che a quattro anni dalla sentenza della Corte di Giustizia e dopo il continuo pagamento di multe milionarie all'Unione Europea, in Calabria ci siano ancora 21 discariche da regolarizzare. Se siamo a questo punto, non possiamo non denunciare i ritardi e le incapacità nell'affrontare l'emergenza da parte del Governo nazionale e della Regione Calabria. Fermo restando, ha aggiunto Pedicini, che a marzo 2017 il Governo Gentiloni ha nominato il generale dei Carabinieri Giuseppe Vadalà, commissario straordinario per realizzare gli interventi di messa in sicurezza e di messa a norma delle discariche abusive, sono gravi le responsabilità politiche che si sono susseguite nel corso degli anni. In particolare perché le procedure sanzionatorie dell'Unione Europea sono più di una e poi perché per decenni il tema di scariche abusive e gestioni dei rifiuti nelle regioni del Sud e in Calabria è stato ignorato, malgestito e troppo spesso lasciato nelle mani della malavita e dei faccendieri politici e imprenditoriali che hanno fatto affari e traffici sporchi sulla pelle dei cittadini.